Ehi, rieccoci. Questa è una di quelle puntate in cui vi avviso in anticipo che l'approfondimento di oggi è tutto meno che leggero, perché riassumiamo una gigantesca inchiesta del Guardian che ha fatto luce su quella che è una vera e propria rete di sfruttamento di migranti africani minorenni, spesso bambini, che vengono utilizzati per lo spazio della cocaina in alcune delle più importanti città europee, dovendo poi subire violenze e vessazioni di ogni tipo. Ma siccome evidentemente non era abbastanza, voglio partire in realtà con un altro tipo di indignazione deprimente, perché le persone che ieri hanno fatto l'errore di seguire la discussione alla camera sono state accolte da uno spettacolo, non so, indecente, tra gente che zittisce i colleghi, inneggiamenti alla decima mass, una rissa, e ve lo dico, credo sia il caso che parliamo un attimo del profondo declino delle nostre istituzioni. Ora, la prendo alla lontana. A quanti di voi, parlando dell'Italia, è capitato di utilizzare un'espressione sul tenore di ci facciamo sempre riconoscere, lo diciamo sempre, spesso quando un politico, un artista, uno sportivo italiano vanno all'estero e si dimostrano troppo italiani, per così dire, lasciandosi andare a gesti, espressioni e comportamenti che scatenano una sorta di vergogna per quella che viene percepita come provincialità, non essere abbastanza sul palcoscenico internazionale, che poi è anche il sintomo di una sindrome di inferiorità che ha sempre caratterizzato il nostro paese. Qual è il punto? Che purtroppo, spesso, è vero, ci facciamo riconoscere e nel peggiore dei modi. Per dire, il G7 è a malapena iniziato e avremo modo poi di approfondire tutto quello che verrà discusso e deciso, ma già da ora si sta discutendo di come l'Italia sarebbe riuscita a far togliere dal documento conclusivo del summit il punto che faceva riferimento a un accesso effettivo e sicuro all'aborto. E per quanto siano arrivate subito smentite e le negoziazioni siano ancora in corso, noi siamo gli unici tra i paesi del G7 che al momento hanno interesse a puntare i piedi sulla questione, a costo anche di far partire l'incontro con una polemica. Questo però era un esempio. Ritorniamo alla discussione alla Camera, in cui si discuteva il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni, fortemente voluta dalla Lega. Cosa è successo? Guardate, non so bene da dove cominciare. C'è stata questa scena qui, dove il deputato di Fratelli d'Italia, De Hidda, paradica stai zitta alla capogruppo del PD Braga, cosa che fa ovviamente scoppiare un casino, costringendo il presidente a interrompere la seduta, che poi riprende con De Hidda che tra un sorrisetto e un altro si giustifica dicendo che no, non zittiva Braga, ma un altro collega, con peraltro in sottofondo qualcuno che gli dice bravo, un cavaliere, è la stessa Braga che offre solidarietà a questo collega fantasma. Insomma, è una scena un po' surreale. Presidente, io voglio chiarire che non mi rivolgevo alla collega Braga assolutamente, io interloquivo con lei chiedendole quale fosse il motivo dell'ordine dei lavori, poi ho sentito un urla di un collega, ho detto stai zitto, ma non all'onorevole Braga, non mi sarei mai permesso, quindi questo per chiarire ai colleghi che non mi sarei mai permesso. Ringrazio l'onorevole De Hidda per il chiarimento, la mia solidarietà va all'altro collega che si è sentito rivolgere questo invito. Così come surreale deve essere stata un'altra scena che però è avvenuta a seduta sospesa con i lavori interrotti in seguito a un coro di bella ciao delle opposizioni, a cui il deputato della Lega, Furgiuele, credo si pronunci, ha risposto mettendo le braccia a X, quindi il gesto recentemente sdoganato da vannacci come chiaro riferimento alla decima mass, gesto a causa del quale viene espulso dall'aula alla ripresa dei lavori e che poi verrà giustificato dallo stesso come un modo di imitare X Factor. Perché, cioè, non c'è neanche il coraggio di essere deficienti, cioè proprio, cioè tutto, non c'è rispetto degli elettori, siamo tutti stupidi, siamo tutti stupidi. X Factor, va bene. La cosa peggiore in assoluto però è stata ovviamente la rissa che è esplosa a un certo punto quando il deputato pentastellato donno è sceso dai banchi con un tricolore e ha cercato di metterlo addosso a Calderoli, cosa che ha fatto intervenire i commessi dell'aula per impedire a donno di avanzare, come peraltro normale che sia, e il loro lavoro. A quel punto però scoppia il parapiglia, Royal Rumble, tutti si gettano su donno, compreso il deputato leghista Lezzi, che dai video si vede cerca di colpire con due pugni donno, però mancandolo. Donno, che comunque circondato da un sacco di persone, cade comunque a terra un attimo dopo e affermerà di aver ricevuto calci, pugni, colpi allo sterno, che è una atteggiamento assolutamente normale per delle persone adulte che vedono qualcuno mettere il tricolore su qualcun altro. È tutto normale qua. Calci, pugni, colpi allo sterno. Il Corriere riporta come il parlamentare sia stato allontanato in sedia a rotelle, Conte in un suo tweet parla addirittura di Barella, ma fatto sta che a quel punto la discussione in aula era stata completamente e irrevocabilmente svilita, mortificata diciamo da una scena di una bassezza, a cui sinceramente non dovremmo assistere in Parlamento, e mi riferisco a tutto quanto, compreso il tentativo originale di Donno di provocare calderoli. Ecco perché l'espressione ci facciamo riconoscere ha purtroppo senso, perché queste scene sono imbarazzanti e umilianti non solo per chi vi prende parte, ma anche per chi guarda, pensando magari di essere rappresentato da persone raziocinanti e equilibrate che hanno a cuore il bene dello Stato, e si trova invece davanti dei bambini di 5 anni che cantano, fanno gesti, si gettano l'uno addosso all'altro come degli ubriachi in piazzetta, contribuendo ancora una volta a un decadimento progressivo e inarrestabile del discorso pubblico, che finisce poi per erodere pezzo per pezzo non solo la credibilità dell'Italia in tutta la scena internazionale, ma anche, e questa è la cosa peggiore, lo stesso Stato di diritto. E poi stiamo lì a dire, ah ma la gente non vota, non si sente rappresentato, ma che c'è sta schifezza? Io mi vergogno, questi sono i migliori, io mi vergogno di questa roba qua. Di nuovo, dico la stessa cosa che ho detto ieri, questa gente non la inviteria a cena, non la farei, se venissero a casa mia la terrei fuori dal cancello, non sono atteggiamenti normali, di persone normali, noi, io credo che gli elettori meritino un pochino più di questo, non l'ho mai detta questa frase, però, boh, non lo so, ditemi voi. Prima di proseguire, come vi ho accennato, con un'inchiestona del Guardian, mi prendo qualche minuto perché tra voi c'è sicuramente qualcuno, se sono stato un buon maestro, che sta pensando a come mantenere vivi una parte dei propri risparmi, magari investendoli da qualche parte, con cautela ovviamente. Io, personalmente, lo faccio con Trade Republic. Parliamo di una banca nata in Germania che negli ultimi anni si è affermata in Europa come principale piattaforma di investimento e di risparmio. Con Trade Republic, infatti, potete investire in più di 8.000 azioni, più di 2.200 ETF, oltre che obbligazioni, togli di Stato, quelle robe lì. Ma, e questo è uno dei punti fondamentali, non solo. Essendo anche una banca, Trade Republic ha creato questa qui, una carta fisica che però potete avere anche in versione solo virtuale, che tanto ormai tutti pagano con il telefono e basta, comprilevi gratuiti limitati sopra i 100€, con un programma di saveback che per ogni acquisto vi restituisce l'1% e lo investe automaticamente in un fondo a vostra scelta, su un massimo di 15€ di spesa. Ma, soprattutto, per chi non si sentisse tranquillo sugli investimenti, potete semplicemente prendere i soldi e metterli lì, sul vostro conto che creerete gratuitamente, perché sino a 50.000€ loro vi garantiscono il 3,75% annuo, cioè vi pagano per tenere la liquidità presso di loro. E visto che la carta potete utilizzarla per ogni cosa, diventa sostanzialmente il vostro salvadanaio. Cosa stavo dicendo? Salvadanaio personale. So che qualcuno mi dirà, ma non era il 4%? Sì, ma adesso è il 3,7% perché l'Unione Europea ha tagliato i tassi e quindi loro, ovviamente, essendo una banca europea, devono rifarsi alle decisioni della BCE. Per avere la carta, prima bisognava aspettare una lunga fila, ma adesso in Italia è disponibile per tutti. Quindi fatemi sapere come va, se passate tramite me, link in descrizione, c'è un piccolo regalino in azioni che rimarranno con voi per sempre. All'inizio di quest'anno, il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per il paese, vi ricordate? In seguito all'evasione dal carcere di José Adolfo Macias Villamar, soprannominato Fito, uno dei più pericolosi e importanti boss della droga del paese, e le gang criminali hanno organizzato un'insurrezione violenta che ha messo in ginocchio l'intero paese, portando morti, caos, terrore generale. Per ragioni di tempo non mi dilungherò oltre su quella storia, ne avevamo parlato meglio a gennaio, quindi vi lascio il link in descrizione se qualcuno volesse saperne di più, ma ci tenevo a ricollegarmici perché quella violenza legata alle gang dei cartelli della droga non aveva tanto lo scopo di prendere il controllo dello Stato e delle sue istituzioni, come si era detto, quanto quello di assicurarsi di poter portare avanti i propri business illeciti, primo tra tutti e probabilmente anche quello più remunerativo, il traffico della cocaina, un business che muove miliardi a livello internazionale e in cui anche l'Europa ha un ruolo sempre più centrale. L'elemento che ci interessa in questo caso è la distribuzione di questo prodotto, per cui le reti criminali si stanno servendo della tratta di esseri umani, più specificamente della tratta di minori. Questa, ve lo dico subito, è una di quelle storie che arriva da lontano ed è per questo che la stiamo prendendo da lontano per sottolineare ancora una volta come tutto il mondo si è interconnesso, è quello che succede qui, ha un effetto di là, è quello che succede là, è importante anche per noi. Quindi dicevamo, traffico di esseri umani, qual è il punto? Un'indagine condotta dal Guardian, lo sapete, il principale quotidiano progressista britannico, ha rivelato l'esistenza di una fitta rete di migranti africani minorenni, tra cui persino bambini di 11 o 12 anni, provenienti soprattutto dal Marocco e dall'Algeria, che vengono attirati in Europa, quindi adescati proprio sulle piattaforme social, a quanto pare, con la promessa di trovare una vita migliore e che vengono poi invece sfruttati e costretti a vendere cocaina nelle strade di alcune delle maggiori città europee. Secondo quanto riporta il Guardian, infatti, sebbene non si conosca con precisione il numero di minorenni coinvolti, questi sarebbero centinaia, se non addirittura migliaia, e un paese in cui questo fenomeno sarebbe stato rilevato inizialmente è il Belgio, dove sarebbe presente un'organizzazione criminale marocchina che si chiama Mocromafia e che avrebbe il controllo della zona del terminal dell'Eurostar a Bruxelles, quindi pensate nel cuore dell'Unione Europea, ma soprattutto controllerebbe il porto di Anversa, il secondo più importante in Europa dopo quello di Rotterdam, verso il quale, neanche a dirlo, proprio dall'America Latina arrivano ingenti quantità di cocaina. Pensate addirittura che nell'arco dell'anno scorso, proprio lì, ne sono state sequestrate 116 tonnellate, per intenderci è quanto pesa una balenottera azzurra che metterò qui, vicina dagli esseri umani, per capire di che volumi stiamo parlando. E ovviamente la cocaina sequestrata è una microscopica parte di quella che non viene sequestrata e che quindi poi arriva nelle case di tutti, nelle case degli italiani anche. Come vi dicevo però, il fenomeno non è stato osservato solo in Belgio, ma anche in Svezia, nei Paesi Bassi, in Spagna, in Francia, e la sua diffusione portata sarebbero così preoccupanti che sempre secondo quanto riporta il Guardian, a marzo a Bruxelles alcuni altifunzionali delle forze di polizia di diversi paesi europei e del Regno Unito, Frontex e Europol, cioè la forza di polizia e di frontiera europea, e l'organo dell'ONU che si occupa di rifugiati, si sarebbero tutti incontrati proprio per discutere di questo problema e di come affrontare i pericoli rappresentati dai cartelli della droga che hanno le proprie basi in Europa. In questo senso, infatti, gli analisti sostengono che le gang della droga che operano sul territorio europeo e che hanno più potere, e di queste farebbe parte anche proprio questa moclomafia di cui parlavamo poco fa, hanno rapporti e lavorano a stretto contatto, a contatto diretto con i cartelli sudamericani, affinché la produzione di cocaina sia sempre più alta, così da rispondere alla crescente richiesta che proviene dall'Europa, in cui i consumatori di coca sono aumentati di quattro volte rispetto a vent'anni fa. Un mercato che quindi è esploso, soprattutto negli ultimi dieci anni, tanto da avere un valore che si agira intorno ai dieci miliardi di euro l'anno. Ora, al di là dei numeri e della diffusione di questo fenomeno, che rimangono comunque oltremodo spaventosi e molto preoccupanti, c'è anche da parlare di come vengono trattati questi ragazzini, questi bambini, usati come soldatini molto poco costosi, sostanzialmente usa e getta, perché, come era prevedibile, sono costretti a subire vessazioni e violenze di ogni tipo, e secondo le forze di polizia coinvolte nelle indagini e le organizzazioni per la tutela dell'infanzia, i cartelli usano la violenza per controllare le proprie vittime, che è strano, e quindi punirle qualora non raggiungano la quota di cocaina che devono vendere, no? Come fosse un po' un obiettivo di vendita aziendale. Non voglio in realtà indugiare su questi dettagli, ma sappiate che nel report vengono citati passaggi dove si citano pestaggi, torture, anche violenze e qualcosa, e tutto questo avviene in Europa. Ricordiamo solo questa cosa qua, non sta avvenendo in luoghi mistici e lontani, sta avvenendo in Europa, nel cuore dell'Europa. Ci sono molte altre informazioni interessanti su come il boom del mercato della coca in Europa stia ridisegnando le rotte del traffico di cocaina, e per approfondire, come sempre, trovate tutti i link agli articoli che abbiamo utilizzato qui sotto il video. Ma adesso, prima di concludere, vorrei sottolineare come questo report ci parla di due cose, due cose gravi. Da un lato ci racconta del fallimento delle politiche di integrazione dei governi europei, e della loro incapacità di proteggere un numero davvero elevato di bambini migranti senza documenti e non accompagnati, che sono le vittime più vulnerabili di una crisi migratoria che esiste a livello globale. Dall'altro lato, ovviamente, questa storia ci parla anche di una crescente dipendenza degli europei dalla cocaina, che oltre a essere la polvere più sporca di sangue, potremmo dire, del mondo, dato che miete vittime su entrambe le sponde dell'Atlantico, come abbiamo visto, è una sostanza che crea una forte dipendenza, lo sappiamo, e che ha associati tantissimi e gravi rischi per la salute, sia sul breve che sul lungo periodo. Affrontare questa situazione, quindi, è innanzitutto un dovere umano nei confronti dei bambini coinvolti, che si ritrovano costretti non solo a fare un lavoro terrificante, ma soprattutto a essere vittime di abusi, sia fisici che psicologici, insopportabili, per noi inimmaginabili, ma è anche un dovere nei confronti del benessere della società in cui viviamo, di noi stessi, perché i bambini abusati e traumatizzati di oggi sono gli adulti disadattati e violenti di domani, cioè gli stessi adulti verso i quali noi poi punteremo il dito e diremmo guardate che schifo questa gente, il pericolo nelle nostre città, abbiamo paura, chiudiamo, sicurezza, è tutta una questione di come i fenomeni vengono gestiti. C'è tutta un'analisi, che adesso io non prenderò perché voglio chiudere questa notizia, ma c'è tutta un'analisi, un filone di analisi, che mostra come molto spesso a diventare violenti e disadattati non sono i migranti di prima generazione, ma i migranti di seconda e di terza generazione, cioè figli di persone che sono arrivate qui molto tempo fa, che non hanno mai visto i paesi di origine. Perché diventano violente? Come mai? Perché si sentono marginalizzate, perché ci sono stati dei fallimenti nelle politiche di inclusione e quindi noi continuiamo a considerare figli di persone che sono magari figli di altre persone che sono arrivate qui boh, 80 anni fa, non italiani perché sono diversi, perché hanno una cultura strana, che non ci appartiene, ma che roba è? È un nostro problema ed è un problema che noi abbiamo deciso di non governare o che realisticamente non abbiamo deciso di non governarlo e che non lo sappiamo fare, non abbiamo leader che sappiano fare questa cosa e quindi ci scoppia in faccia e anche questo problema ci scoppierà in faccia perché, nel senso, qualcuno ha delle soluzioni, se ne parla? No, no, ovviamente non è mia responsabilità trovare la soluzione, anche se ho qualche idea se l'avrei, ma è degli elettori e soprattutto dei partiti che, però insomma, l'avete capito, l'avete capito. Avviamoci verso il resto della puntata con le ultime imperdibili notizie di oggi. Iniziamo dall'Italia, che, come detto poc'anzi, quest'anno ha la presidenza del G7, il summit in cui leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito, e Stati Uniti ovviamente, cioè le sette principali potenze globali, si riuniscono per discutere delle grandi tematiche di attualità che riguardano il mondo intero. Il G7, che si tiene quest'anno in Puglia, più precisamente nel resort di lusso di Borgognazia, nel Barese, è stato avviato stamattina e andrà avanti per tre giorni, ma già in queste ore si è diffusa la notizia di un accordo che i leader del G7 avrebbero già raggiunto riguardo uno dei temi più caldi che saranno affrontati in questi giorni, e cioè la guerra in Ucraina. Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli di questo accordo, ma quello che vi posso dire con certezza è che saranno utilizzati gli interessi maturati sui profitti degli asset russi, quelli che sono rimasti congelati nelle banche europee al momento dell'invasione dell'Ucraina, per finanziare un prestito da mandare all'Ucraina, così che questa possa continuare la difesa contro la Russia e ricostruire le proprie infrastrutture energetiche, prestito che si aggirerà intorno ai 50 miliardi di euro. Altri argomenti che saranno oggetto delle discussioni di questi giorni sono le migrazioni, che costituiscono una crisi globale, come già sappiamo, e l'intelligenza artificiale, sulla quale è atteso un intervento di Papa Francesco, che parlerà delle opportunità, ma anche dei pericoli insiti nell'IA. Ed è un dato interessante questo, perché è la prima volta che un leader della Chiesa Cattolica si rivolgerà a un summit del G7, ma non è l'unico inviato esterno al gruppo, sono infatti stati invitati anche diversi leader di Nazioni Africane, il presidente ucraino Zelensky e il presidente Turco Erdogan. Proseguiamo con una notizia che riguarda l'Unione Europea e le sue politiche economiche, perché notizia di ieri che l'UE ha notificato alla Cina la propria decisione di imporre dazi fino al 38% sulle importazioni delle automobili elettriche fabbricate nella Repubblica Popolare. Si tratta di una decisione presa in seguito a un'indagine che nell'arco di nove mesi aveva l'obiettivo di investigare su presunti sussidi statali che avrebbero offerto alla produzione cinese un vantaggio ingiusto sul mercato e i cui risultati preliminari sembrerebbero confermare l'esistenza di pratiche sleali nella gestione della produzione cinese di veicoli elettrici. I nuovi dazi vanno ad aggiungersi a una precedente tariffa, imposta in generale a tutte le automobili che vengono importate dall'estero nei paesi dell'Unione Europea, del 10%, portando quindi il totale delle tasse sull'importazione cinese fino al 48%. La decisione è arrivata in seguito a quella degli Stati Uniti, annunciata da Joe Biden il mese scorso, di imporre dazi del 100% sulle auto di fabbricazione cinese. Una mossa, anche un po' provocatoria se vogliamo, che è stata avanzata per proteggere la manifattura statunitense da importazioni che avrebbero un costo bassissimo. La Cina, che ha quattro settimane di tempo prima che entrino in vigore i nuovi dazi per presentare una sorta di appello alla decisione, ha risposto alla notifica dell'Unione dicendo che prenderà tutte le misure necessarie a proteggere i diritti e gli interessi delle aziende cinesi. Però, insomma, era quasi un atto dovuto questa mossa dell'Unione Europea perché quello delle auto elettriche è un grande tema dello sviluppo delle auto elettriche, è un grande tema in Cina, dei sussidi statali e del fatto che un'ottima parte della filiera di produzione di tutti gli elementi sono in mano cinese, però ne abbiamo già parlato e ne parleremo in futuro magari più approfonditamente. Comunque, questa cosa sta succedendo, il futuro è ovviamente quello dell'elettrico, bisogna giusto capire la sostenibilità dell'intero sistema. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, grazie a Trade Republic che ha sponsorizzato questa puntata, io grande fan, sono un loro cliente, utilizzo il loro conto sia per investire che come banca personale, sinceramente, e quindi ve la straconsiglio. Per il resto era tutto, fatele brave, fate i bravi, domani non ci vediamo, domani non c'era live perché sarò a Bologna sabato per il We Make Future, che è una grande fiera alla quale mi hanno invitato, presenterò delle cose, nel senso che faccio il presentatore, faccio salve e benvenuti, non è che devo presentare delle cose mie, altrimenti già lo sapreste, però domani non c'era live. Quindi, per chi non dovesse essere a Bologna al We Make Future sabato, ci vediamo lunedì.